Oggi c'è questa protesta qui a Chieti, dinanzi alla provincia, protestate per lo stato delle strade, per la mancanza di fondi proprio per mettere a posto queste strade provinciali, soprattutto nella zona del Vastese. In realtà il Presidente Fupillo ci ha quasi anticipato perché noi avevamo programmato di stare qui proprio per chiedere attenzione al nostro circuito viario che è ridotto in condizioni veramente indescrivibili. Però lui ci ha preceduto praticamente dicendoci che non ha più alcuna possibilità di movimento, non farà nessun tipo di investimento, non solo sulle strade, addirittura neppure sulle scuole. Io vorrei ricordare che San Salvo ha un istituto superiore di tutto rispetto che aspetta di essere completato nei suoi due piani oramai da oltre cinque anni. La nostra protesta a questo punto si trasforma non più come una forma di attenzione da parte della provincia ma a questo punto del governo. Il Presidente si deve dimettere, deve riconsegnare la fascia insieme a tutto il Consiglio provinciale perché forse solo così il governo centrale capisce che questa provincia ha necessità di fondi per essere messa in sicurezza. Non parliamo di decoro, magari parliamo di sicurezza. Abbiamo un'arteria nella nostra città che è molto importante dall'uscita dell'autostrada San Salvo Sud fino all'ingresso della nostra città. è veramente fatiscente, pericolosa. Ribadendo che noi siamo in quella strada, cercano parecchi veicoli per tutto il nostro magnifico agglomerato industriale, quindi bisogna assolutamente metterla a posto. Qui bisogna rimettere un pochino la palla al centro e far sì che l'attività amministrativa sia destinata alle persone. Persone che purtroppo vengono private ogni giorno di servizi vitali. Allora occorre riflettere e dire uno Stato come l'Italia può permettersi di continuare ad investire 5 miliardi l'anno per ospitare i migranti e abbandonare i cittadini. Allora noi quello che chiediamo oramai da tanto tempo è cercare di stornare da questi 5 miliardi di euro una parte per tornare ad investire attraverso un piano Marshall sulle strade, sulle infrastrutture e soprattutto sull'erogazione dei servizi in generale a favore degli italiani.